Catanzaro e Catania perdono una buona occasione per dare una svolta al loro anonimo finora campionato, ma non riescono a superarsi e ad invertire la marcia. Finisce 0-0 la sfida di prestigio tra calabresi e siciliani e lo stadio Ceravolo, valida per la ventitresima giornata di Lega Pro. Gli Etne di Pancaro hanno presentato l'ex del Catanzaro Andrea Russotto. Buoni trascorsi con la maglia dei giallorossi calabresi, una gara nettamente condizionata dal fortissimo vento che ha imperversato soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa invece il vento è calato ed il Catani è riuscito a controllare più agevolmente le folate dei padroni di casa. La squadra di Mister R avrebbe potuto comunque passare in almeno tre nitide occasioni, clamorosa quella capitata sulla testa di Moi con la palla che sfiora il palo lontano e due compagni che arrivano in ritardo per correggerla. Grande chance anche per Squillace e per Agnello che arriva leggermente in ritardo. Nel finale potrebbe segnare il Catania quando Grandi è severamente impegnato dal colpo di testa ravvicinato di Bombaggi. Ancora costretto a frenare quindi il Catanzaro che non vince in casa dall'ultima gara del 2015 giocata contro l'Ischia e con molti uomini come ad esempio Razzitti che sembrano vivere una fase di netta involuzione. Il pari serve poco ad entrambe, le due formazioni restano troppo vicine alla zona che scotta. Il Catanzaro domenica sarà impegnato a Martina Franca contro i pugliesi che hanno imbarcato a sei reti a Castellamare di Stabbia.